Quello che chiediamo è o ci aiutano economicamente perché abbiamo investito per far sì che tutto fosse a norma e quindi siamo pronti ad accogliere i nostri bambini, quelli che comunque il governo è a quali dà il permesso di poter andare a scuola oppure ci fate effettivamente, o ci fate lavorare o ci date comunque sia un ristoro. È questo l'appello delle scuole linguistiche di Arezzo, da un lato escluse dal governo nel decreto RistoriBis e dall'altro costrette entro le rigide misure poste dal governatore Eugenio Gianni. Capiamo assolutamente il fatto che comunque sia il governatore, esattamente come il governo, la regione Toscana e quant'altro applichino queste normative perché tengono la salute dei bambini e questo lo capiamo anche noi, non è che per noi va in secondo piano però riteniamo anche importante, e lo dico come insegnante, che i bambini mantengano un contatto sociale. In Toscana, infatti, l'ultima ordinanza firmata dal Presidente ha disposto che le attività delle scuole di lingue straniere dovranno svolgersi a distanza se collettive ed in presenza solo se individuali. Ci siamo ritrovati a dover interrompere i nostri corsi di gruppo che però sono quello che principalmente facciamo tutti i giorni, ecco, sul nostro lavoro. Ovviamente creare un gruppo di otto bambini e lavorare con un bambino cambia del tutto, sia nel nostro metodo di lavoro che con il rapporto singolo a uno a uno, il bambino si sente anche più intimorito, mentre nel lavoro di gruppo attraverso l'osservazione degli altri coetanei è più motivato e più stimolato. Ci piacerebbe poter tornare in classe. Far tornare in classe i nostri bambini, principalmente quelli che possono frequentare la scuola. Perché, ecco, la domanda che ci facciamo come scuole private è questa, ovvero se i bambini possono frequentare l'asilo, quindi il nido, la scuola dell'infanzia e anche la scuola elementare, ci chiediamo perché non possano frequentare un corso di lingue privato che comunque sia il genitore ha pagato, nel quale ha investito. Anche perché, per esempio, nella nostra realtà abbiamo delle classi molto piccole che vanno da due a otto bambini, quindi è proprio una realtà ristretta e abbiamo fatto di tutto per metterci chiaramente a norma quando era il momento, quindi a settembre.